Benvenuti nel mondo degli orologi Louis-Hérard. Louis-Hérard è un marchio di orologi di lusso fondato nel 1929 alla Chaux-de-Fon, nel cuore della Valle del Giura. Il marchio svizzero è noto per la sua attenzione ai dettagli e alla precisione, che si riflette nella produzione di orologi di alta qualità in un'ampia gamma di stili. La gamma di orologi Louis-Hérard offre modelli per uomo e donna, dai classici a quelli più moderni, tutti dotati di movimenti al quarzo o meccanici realizzati in Svizzera. Gli orologi Louis-Hérard sono costruiti con materiali di alta qualità, come l'acciaio inossidabile, l'oro e il titanio, che garantiscono un investimento duraturo per chiunque apprezzi l'arte dell'orologeria svizzera. Tra i modelli più popolari del marchio, troviamo gli orologi da polso con movimento automatico, caratterizzati da un design elegante e sofisticato. Inoltre, Louis-Hérard offre anche una gamma di orologi da polso con complicazioni, come il cronografo e il calendario perpetuo, che offrono prestazioni precise e affidabili. Il marchio Louis-Hérard è stato acquisito nel 2003 da un gruppo di investitori privati, che rilanciano il marchio come produttore di orologi meccanici, dai movimenti di alta qualità e dal design senza tempo. Grazie alla sua attenzione alla qualità, alla precisione e alla personalizzazione, Louis-Hérard è diventato un marchio di orologi di lusso molto apprezzato in tutto il mondo. La qualità superiore degli orologi Louis-Hérard li rende un investimento duraturo per gli appassionati di orologeria. Tutti i modelli sono realizzati con materiali di alta qualità e con una grande attenzione ai dettagli, che si riflette nella precisione e nell'affidabilità dei movimenti al quarzo o meccanici. Louis-Hérard offre anche una vasta scelta di stili e di materiali di alta qualità, che garantiscono un'ampia scelta per gli amanti dell'orologeria. Tra i materiali utilizzati, troviamo l'acciaio inossidabile, l'oro e il titanio, che conferiscono agli orologi Louis-Hérard un aspetto elegante e sofisticato.